Ciao a tutti ragazzi, dunque con questa nuova serie di video voglio iniziare a parlare della metodologia più bella, soddisfacente e completa per produrre birra che è la metodologia all grain, quindi io faccio comunque il grain classico, sia quello con i tre tini, quello di ammostamento, quello di sparging e quello di boiling perché fare questa serie di video? Così volevo un attimino innanzitutto farmi conoscere, far conoscere la mia metodologia per fare la birra e comunque far vedere a tutti che non è una cosa così difficile come si possa pensare ma è veramente una cosa bella, interessante e alla fine quando si assaggerà la propria birra, nonostante deve passare molto tempo ma comunque anche chi fa birra da kit deve aspettare bene o male la stessa tempistica l'unica cosa è che per fare la birra con un kit lupolato ti serve un'ora di tempo, esagerando un'ora e mezzo mentre qui diciamo con la metodologia all grain per abbrassare la tua ricetta di birra occorre parecchio tempo, almeno 6 ore diciamo, 7 ore con anche tutte le varie fasi di pulizia perché comunque le fasi da completare sono tante prima però di iniziare a far vedere come stendiamo la ricetta, come scegliamo il materiale come facciamo la cotta in generale e la fermentazione e poi andremo anche a assaggiare la birra che andrò a fare quella che vi mostrerò come fare diciamo, faremo anche un video di assaggio finale quindi sarà una serie di video che comunque sarà molto... non che la serie di video sarà lunga però il tempo sarà tanto perché comunque l'assaggio va fatto due mesi dopo almeno l'imbottigliamento quindi ce ne vorrà di tempo prima di fare tutto questo dicevamo, volevo parlarvi un attimino di cos'è la birra quali sono gli ingredienti principali e alcuni concetti da sapere prima di metterci dietro a cucinare tra virgolette la nostra birra allora innanzitutto con il processo di ammostamento noi andremo a far sì che acqua, orzo maltato e luppolo diventino una sostanza fermentiscibile che il nostro lievito a bassa o ad alta fermentazione questo dipende da noi e dal nostro tipo di ricetta andrà a far fermentare e a trasformare nella bevanda più famosa in tutto il mondo che è la birra gli ingredienti sono principalmente di due famiglie, sono ingredienti primari gli ingredienti primari sono comunque in generale tutti i tipi di cereali che hanno subito un processo di maltazione che cos'è questo processo a grandi linee? il processo di maltazione è un processo che fa in modo che gli zuccheri presenti all'interno del grano del chicco di grano diventino fermentiscibili quindi diventino abidi che poi il nostro ammostamento libererà per far sì che i nostri lieviti possano farlo fermentare questa è la maltazione si possono utilizzare anche cereali non maltati ma unicamente per dare un particolare aroma una particolare caratteristica alla birra che vogliamo brassare gli ingredienti additivi principalmente noi parleremo di un additivo solo che è il luppolo il luppolo che è una pianta rapicante del quale si utilizza l'influorescenza femminile che è il cono nelle fasi di amaricazione ed aromatizzazione della birra i malti sono la base la base per fare la birra quindi abbiamo tre tipi diversi di malti che ci sono il malto base che può essere contenuto in una quantità anche del 100% della nostra ricetta hanno un elevatissimo contenuto di enzimi tale da convertire oltre i propri amidi anche gli amidi dei cereali diversi inseriti nella ricetta che stiamo facendo i principali malti sono il malto pisner il malto pale e anche il malto lager i malti misti invece sono malti tostati per tempi lievemente maggiori per donare caratteristiche particolari un assentore più maltato e caramellato ad esempio mantengono comunque un buon contenuto enzimatico da poter essere utilizzati in percentuali elevate nella nostra ricetta anche del 100% senza necessità di inserire un malto base i malti speciali invece sono malti che hanno perso nel processo di essiccazione tutto il loro potere enzimatico vengono essiccati a diverse temperature più o meno alte per più o meno tempo quindi questi malti hanno caratteristiche diverse l'una dall'altra c'è il malto ambrato c'è il malto caramellato c'è il malto scuro ogni tipo di malto caratterizza la birra in un certo modo ad esempio in una birra scura come può essere una Porter o come può essere un Irish Stout utilizzeremo del Roasted o del Black che danno sentori di caffè, di diquerizia oppure in una birra in stile inglese come una English Pale Ale utilizzeremo il Crystal che dà un sentore caramellato quindi sono malti che caratterizzano di per sé lo stile birraio che vogliamo produrre va da sé però che questi malti avendo perso tutto il loro potere enzimatico necessitano della presenza di malto base della presenza elevata di malto base per far sì che gli amidi di questi malti possono essere convertiti in zuccheri il lupolo è come anticipato precedente una pianta rampicante della quale ci utilizzano le influorescenze femminili che sono i coni è il principale additivo che viene utilizzato nella produzione della birra e abbiamo tre tipologie particolari di lupolo lupolo d'amaro, d'aroma e ambivalente allora il lupolo d'amaro va da sé che ha l'unica funzione di amaricare la birra e non ha particolari doti di aroma invece poi ci sono i lupoli d'aroma che sono lupoli usati quasi ed esclusivamente per dare un particolare sapore alla nostra birra che può essere ad esempio un sapore erbaceo come il Saznell e Pilsner oppure un sapore molto agrumato come il Cascade nelle American Pale Ale poi ci sono lupoli ambivalenti ossia che hanno buone qualità di amaricazione hanno alfa acidi relativamente alti però hanno delle particolari hanno delle particolari caratteristiche che li rendono utilizzabili e molto apprezzati anche nelle fasi di aromatizzazione del mosto quindi a fine bollitura oppure addirittura possono essere inseriti direttamente a freddo nel fermentatore per il dry hopping mi viene da pensare ad esempio al Simco che ha un particolare sentore di pino con richiami agrumati oppure l'amarillo che ha proprio dei settori tropicali di frutto tropicale le ultime parole le spendiamo per i lieviti i lieviti come dicevamo prima sono due famiglie principali una famiglia bassa fermentazione che è il Carlsbergensis e una famiglia ad alta fermentazione che è il Cerevisia i lieviti vengono venduti in due forme principali ossia forma secca quindi sono granulini di lievito tenuti sotto vuoto in un sacchettino oppure forma liquida i lieviti secchi sono economici possono essere utilizzati per varie tipologie di birra diciamo c'è una buona scelta di lieviti secchi e non richiedono particolari attenzioni prima di essere inoculati del mosto ossia non serve uno starter non serve reidratarli qualcuno lo fa ma non è richiesto nelle specifiche del lievito e sono economici mentre i lieviti liquidi dalla loro hanno che i lieviti liquidi sono molto specifici per il tipo di birra che andiamo a fare però sono più complicati da utilizzare ossia richiedono uno starter almeno 24 ore prima quindi c'è da essere in grado di fare lo starter bisogna sapere come farlo hanno una scadenza a breve termine rispetto ai lieviti secchi vanno conservati in frigorifero e sono più cari hanno un costo più elevato che varia dalle 7 alle 11 euro un'ultima cosa prima di terminare il video volevo parlarvi di alcune sigle importanti che comunque ritorneranno nelle varie puntate di questo tutorial diciamo che in teoria chi sta guardando questi video dovrebbe già essere il corrente di queste sigle in quanto come ho fatto io e comunque come fa la maggior parte degli home brewer dovreste già essere passati nelle fasi precedenti cioè avrete fatto sicuramente qualche birra con il kit lupolato oppure qualche birra in E più G quindi alcune sigle come ad esempio la OG l'FG dovreste già saperle io ve ne spiego giusto giusto due o tre adesso poi ne spiegherò più precisamente più avanti comunque l'OG che è la densità iniziale del mostro dopo la burlitura l'FG che è la densità di finale della birra dopo la fermentazione primaria ossia prima dell'imbottigliamento questi due termini ci servono per per calcolare anche il grado alcolico che avrà la nostra birra finale le IBU che è l'International Bitterness Unit che indica il rilascio di amaro del lupolo nella birra l'EBC che è il grado di colore della birra questo lo si ricava mediante la scelta dei malti l'alfa acido la percentuale di alfacido presente nel lupolo è un dato molto importante da sapere questo in quanto un lupolo anche se è dello stesso tipo non sempre ha gli stessi alfati alfacidi variano da raccolto a raccolto quindi non sempre utilizzeremo la stessa quantità di lupolo per fare la stessa ricetta che abbiamo fatto magari l'anno prima perché gli alfacidi presenti nel lupolo in cui è raccolto può darsi che siano diversi il BJCP che è il Beer Judge Certification Program è diciamo la bibbia della birra qui sono raccolti tutti i vari stili di birra che ci sono sulla faccia della terra i vari stili di birra riconosciuti e le caratteristiche che deve avere la birra i malti che si devono utilizzare i luppoli che si possono utilizzare insomma sono delle linee guida e sono quelli che utilizzano i giudici per giudicare le birre nei concorsi bene con questa pre-introduzione diciamo che è finita vi do l'appuntamento al primo video sull'oil grain che sarà sulla stesura della nostra ricetta quindi decideremo il tipo di birra da fare la quantità di acqua che ci servirà i malti i lupoli i lieviti che decideremo di utilizzare e vi spiegherò come funziona il programma che utilizzo io che è Brew Plus per fare la propria ricetta della birra ora vi saluto mi raccomando se siete interessati a seguire questa nuova serie di video iscrivetevi al mio canale tenetevi aggiornati sulla pagina grazie di aver visto il video e ci sentiamo alla prossima ciao a tutti